ciao ragazzi come state? ah sì bene ok perfetto meglio così sì anche oggi 30 dicembre io ti presenterò l'allenamento del giorno quello che abbiamo combinato in palestra quindi juicy si è messa ancora una volta alla lavagna dai un'occhiata alla parte del riscaldamento perché oggi ci prepariamo per i pull ups trazioni alla barra quindi occhi al riscaldamento attenzione ai movimenti e ci vediamo alla forza ciao iscriviti al canale ed eccoci qui alla forza ragazzi oggi juicy ovviamente sta imparando sta migliorando la forza ce lo fa vedere con l'elastico non facile aumentare la forza dei dorsali ma prima o poi riusciremo a raggiungere anche questo traguardo siamo vicini a un solo pull ups quindi dai un'occhiata al movimento mi raccomando se hai qualche bisogno di aiuto su come migliorare la forza o i tuoi massimali mi scrivi nei commenti preparati bene che ci vediamo al workout ciao ragazzi abbiamo dieci giri quindi per la parte finale dove la prima stazione sono max drink dips sono cinque giri quindi max dips agli anelli occhio non facilissimo e la seconda stazione quindi altri cinque giri max calorie consumate sulla bike tu se per caso vuoi cambiare puoi utilizzare il tapiro line o lo step ellittico quindi lavoriamo sui 30 secondi attenzione a quello che ha fatto juicy ovviamente i ring dips li ha fatti un po in transizione quindi con un piccolo aiuto guarda bene questo movimento se tu hai qualche domanda qualche dubbio su questo allenamento vi scrivi sotto ti dico grazie aver guardato questo video ti invito ad iscriverti al canale se ti va o al massimo lascia un mi piace sempre se ti va noi ci vediamo ancora domani e ci diamo gli auguri anche del buon anno tu allenati bene ciao 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 ciao